Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6. Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri ad Avezzano dove la piccola Alessia che a novembre avrebbe compiuto 12 anni è morta a seguito del cedimento della trave che sorreggeva il dondolo con cui stava giocando. Il fatale incidente è avvenuto nel giardino dell'oratorio di San Pelino sconvolta una intera comunità. Domani intanto verrà dato l'incarico all'anatomo patologo Cristiano Dovidio per eseguire l'esame esterno sul corpo della piccola vittima. Il servizio. I suoi amici hanno attirato l'attenzione di un infermiere libero dal servizio che si trovava nelle vicinanze. Ha tentato di rianimarla mentre veniva dato l'allarme al 118. Le condizioni sono apparse da subito critiche per questo è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che è decollato dall'Aquila. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di tenerla in vita. La bambina è morta all'ospedale di Avezzano per i traumi riportati a seguito dell'incidente. La chiamata ai carabinieri della compagnia di Avezzano che stanno procedendo con le indagini è arrivata intorno alle 19. Ieri sul posto della tragedia sono accorsi anche il vice sindaco di Avezzano Domenico Di Berardino e il vescovo De Marsi Giovanni Massaro. La notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità da ricostruire tutta la dinamica dell'incidente. Intanto l'intera area è stata posta sotto sequestro dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Avezzano. Il PM della procura della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, ha aperto un'inchiesta. A tal proposito domani sospese tutte le manifestazioni pubbliche ad Avezzano. La città oggi perde un pezzo della sua anima. Possiamo solo essere uniti come comunità e come popolo marsicano e dimostrare rispetto e vicinanza, scrive il vice sindaco Domenico Di Berardino in una nota nella quale esprime cordoglio e profondo dolore. Bloccata Avezzano Bimbi, la manifestazione dedicata ai più piccoli che doveva partire domani, sospese tutte le manifestazioni pubbliche fino a ulteriore comunicazione e la decisione presa dall'amministrazione comunale in segno di doveroso rispetto per la famiglia della piccola Alessia in sintonia, dice Di Berardino, con una città sotto shock. Andiamo avanti, cambiamo pagina, ridurre di un'ora i tempi di percorrenza della tratta Bologna-Bari. Il MIMS comunica di essere pronto a investire 8,5 miliardi di euro per il potenziamento della linea adriatica. Interventi che saranno affidati a RFI. Il servizio. È stato raggiunto l'accordo sul progetto per la velocizzazione, l'ammodernamento e il miglioramento della linea ferroviaria adriatica. È affidata a RFI la progettazione e la realizzazione degli interventi di potenziamento tecnologico della linea, miglioramento delle stazioni, rettifica del tracciato in diversi tratti, riduzione delle interferenze, grazie ai quali i tempi di percorrenza tra Bologna e Bari si ridurranno di un'ora. Lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, con una nota nella quale si sottolinea che l'investimento complessivo è pari a 8,5 miliardi di euro, di cui 5 previsti nella legge di bilancio per il 2022. Con una lettera indirizzata ai presidenti delle regioni interessate, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise e Puglia, il Ministro Enrico Giovannini ha trasmesso il progetto di massima elaborato da RFI nel corso dell'ultimo anno, con la collaborazione delle regioni. Con questo progetto, dichiara Giovannini, si avvia un cambiamento profondo che, insieme agli interventi sulle tratte Napoli-Bari, Roma-Pescara e Orte-Falconara, consentirà di superare divari storici, migliorando le opportunità di sviluppo economico dei territori adriatici e la qualità della vita delle persone, riducendo al minimo l'impatto ambientale degli interventi. In aggiunta, conclude Giovannini, si è concordato di utilizzare 5 miliardi stanziati dalla legge numero 234-2021 e a risorse FSC 2021-27 per la realizzazione di bypass che consentano il transito dei treni veloci, passeggeri e di treni merci su nuove tratte all'interno, conservando la linea costiera esistente per la funzione di trasporto pubblico locale e varianti di percorso con l'arretramento della linea in sostituzione di quella esistente. La FLC CGL dell'Abruzzo e di Teramo lanciano l'allarme sulla situazione scolastica del territorio a pochi giorni dalla riapertura della scuola. In Abruzzo ci saranno 2700 studenti in meno dello scorso anno, 800 solo in provincia di Teramo, mentre si stima una perdita di migliaia di posti di lavoro tra docenti e personale ATA. In detta domani 2 settembre una grande manifestazione di protesta sotto la sede dell'ufficio scolastico provinciale di Teramo. Taglia Bonnici Castelli. 2 settembre in Abruzzo torneranno in aula 165 mila studenti, 2700 in meno dello scorso anno. Contemporaneamente si perderanno migliaia di posti di lavoro, se ne stimano 2000 tra docenti e personale ATA. La Fielc, CGL regionale e la segreteria di Teramo lanciano un allarme sulla situazione scolastica del territorio. Organici Covid non riconfermati, infrastrutture carenti e precari non ancora stabilizzati. È un primo dato che ci fa camere come bisogna intervenire anche per far cessare questo spopolamento e come la scuola sia comunque importante da un punto di vista dello sviluppo di questa regione. Torneranno, noi speriamo sicuramente, con la voglia di iniziare un nuovo anno scolastico anche grazie al grande impegno che anche in questi giorni, ma non è mai finito, è stato posto da parte di tutti gli operatori scolastici, docenti, personale ATA, dirigenti, operatori degli uffici scolastici. Manca però e mancato forse un impegno ulteriore da parte della classe politica, di chi governa questo paese perché a noi sembra che tutte le problematiche che abbiamo denunciato l'anno scorso non sono state risolte. Quali in particolare? In particolare c'è il tema degli organici, un potenziamento degli organici che potesse garantire una scuola di qualità. Noi attualmente abbiamo ancora degli organici insufficienti e rispetto all'anno scorso anche in Abruzzo per esempio avremo la mancata conferma dell'organico Covid. Circa 2.000 lavoratori in meno che hanno garantito per esempio le sanificazioni, gli sdoppiamenti delle classi, un sistema di sicurezza e di garanzie che quest'anno non potrà essere posto in essere. Situazione preoccupante anche in provincia di Teramo dove per il segretario provinciale della FLC CGL Sergio Sorella il 12 settembre mancheranno all'appello 800 studenti mentre non sono stati riconfermati 600 operatori scolastici. Particolarmente delicata la situazione nelle scuole di Roseto e Giulianova dove sono complessivamente 500 i ragazzi ucraini da integrare. Per tutte queste ragioni venerdì 12 settembre è stata indetta una manifestazione di protesta sotto l'ufficio scolastico provinciale di Teramo. Poi c'è un altro tema che è quello del precariato. Abbiamo comunque sia una grandissima percentuale di precari. Manca la continuità didattica anche e soprattutto in alcuni settori pensiamo ai diversamente abili. Il 20% del personale è tuttora precario, i meccanismi di reclutamento non sono stati modificati, non danno quelle certezze necessarie. Poi c'è tutto il tema relativo ovviamente alla necessità di investire sui nostri settori anche da un punto di vista delle strutture, dell'edilizia scolastica perché mancano per esempio anche le cose basilari. Pensiamo agli impianti di areazione. Piuttosto che sprecare risorse con banche a rotelle e mille rivoli bisognava intervenire strutturalmente su questi temi. Sono 665 nuovi casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo. sono stati diagnosticati dall'esame di 1.034 tamponi molecolari e 3.701 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 14%. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.634 con i tre casi registrati oggi. Nelle ultime 24 ore sono 325 dimessi guariti, mentre gli attualmente positivi salgono a 26.953, più 335 rispetto a ieri. 130 sono i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, meno uno rispetto a ieri, 9 in terapia intensiva, dato in questo caso invariato. La lista Noi Moderati, quarta gamba del centro-destra, ha presentato i propri candidati a pescare nel corso di una conferenza stampa. Il programma politico si fonda su linee ispirate al liberalismo e alla dottrina sociale della Chiesa. Il servizio di Stefano Recanati. A distanza di un mese da quando si è deciso di scendere in campo, come stanno le cose e qual è il pensiero e il futuro di noi moderati? Abbiamo una coesione incredibilmente forte in Abruzzo di tutti i moderati. Noi abbiamo detto che senza i moderati non c'è il centro-destra, soprattutto in questa regione. Abbiamo avviato una stagione importante per la presenza dei cattolici democratici, liberali, ex-democristiani, cioè tutti quelli che appartengono ad un ambito della politica che è fatta di concretezza, ma è fatta anche di solidarietà e di rapporto con tutti. Inizia ovviamente questa stagione che dovrà avere ovviamente la parte migliore con le elezioni regionali. Candidati di qualità, giovani, che appartengono a tutte le esperienze non solo professionali, ma politiche e associative. Ed ecco qui, insomma, chiediamo agli abruzzesi un voto ragionato e convinto e soprattutto chiediamo a chi non ha ancora deciso di votare per chi votare, di fare un passo assieme per cambiare e cambiare meglio. Per come siamo partiti e per come abbiamo trovato questa coesione, diciamo che per noi è importante esserci. Ci siamo, c'è stato un riconoscimento da parte della coalizione, è chiaro che adesso il nostro sforzo è quello di avere un risultato tangibile. Logicamente il 3% è un obiettivo, perché ci consentirebbe di eleggere nelle liste proporzionali della Camera una pattuglia di nostri rappresentanti, ma comunque insomma il nostro obiettivo è quello di segnare una presenza. E noi pensiamo che in Abruzzo abbiamo l'ambizione di superarlo, questo 3%. Come possono coesistere anche queste due realtà, quelle di Salvini e Meloni con quella dei moderati? È inutile nascondersi che alcune posizioni della Lega e dei Fratelli d'Italia sono lontane dal nostro pensiero, però è questa la logica della coalizione e della logica della parte maggioritaria di questa legge elettorale. Il centro-destra è cambiato con l'arrivo anche del populismo, naturalmente si è spostata più su posizioni populiste. Noi pensiamo di rappresentare un'area più pacata, di saggezza, di elaborazione della politica, di analisi e crediamo che abbiamo la forza per far sentire questa voce. Temporali e acquazzoni hanno interessato la costa abruzzese da questa mattina con conseguenti disagi alla circolazione e allagamenti. In particolare a Pescara diverse sono state le strade impraticabili in periferia e nella zona sud, poi anche a Giulianova in zona annunziata e nei pressi del casello dell'autostrada A14, completamente allagati e quindi interdetti al traffico alcuni sottopassaggi, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. A Pescara, via Spaventa e via Celommi sono state chiuse temporaneamente al traffico veicolare. L'intensità delle precipitazioni ha causato problemi anche perché alcuni tombini parzialmente ostruiti da foglie e aghi di pino non riuscivano ad assorbire dell'acqua. Sarà trasformato in alloggio per ospitare circa 20 persone bisognose della città. Stiamo parlando dello stabile di Via Tavo a Pescara confiscato ad una famiglia di etnia Rom. Vediamo il servizio. Pescara dalla parte degli ultimi, Pescara dalla parte della legalità. Arriba dirlo il sindaco Carlo Masci a margine della presentazione dell'ultima operazione portata avanti dalle istituzioni e i danni della criminalità organizzata. Questa è una casa confiscata ai Rom e questo deve fare Pescara. Deve dimostrare di essere dalla parte della legalità e dalla parte di coloro che hanno un disagio per aiutarli per quanto possiamo perché la comunità pescarese ha un cuore grande e noi lo vogliamo mettere bene in evidenza. Come abbiamo già fatto con altri 5 alloggi ristrutturati negli anni passati dove 20 persone che non avevano casa aiutati ovviamente dai servizi sociali e dalle associazioni che operano con il Comune di Pescara non soltanto hanno trovato un alloggio dove vivere e dove riacquistare la loro dignità ma anche una possibilità di lavoro. Da un paio di mesi in possesso del Comune di Pescara lo stabile sito in Via Tavo sarà messo a disposizione dei più bisognosi. Questo grazie ad un bando sociale vinto previsto dal PNRR di circa 400 mila euro con cui sarà possibile ricavare 20 posti letto e avviare questa attività di recupero sociale. Un progetto nel favore delle persone che senza fissa dimora sono persone che hanno bisogno di aiuto quindi ci saranno in questo caso un centro d'ascolto un centro dove potremo anche dare un tetto alle persone più bisognose da qui ci sarà anche un'unità di strada che andranno a portare d'aiuto. Adesso inizieramo i primi lavori per la manutenzione perché faremo il classico avviso per verificare. Abbiamo diversi partner anche perché ricordiamo abbiamo tanti progetti abbiamo tanti progetti che ci vengono per esempio sia con Caritas che con Derodio che sono i nostri partner adesso qui verrà individuato un partner che all'interno del quale ci aiuterà nella gestione di queste strutture perché poi occorre personale altamente qualificato che insieme ai nostri assistenti sociali andranno a gestire questo servizio. È un'iniziativa importante che lancia un messaggio molto chiaro lo Stato nelle sue diverse articolazioni vince sempre quindi comune, autorità giudiziaria, prefettura, questura sono impegnate continuamente per la sicurezza della città e questo è il risultato nella dimostrazione. Aumenti fino al 140% nuovo grido d'allarme di confesercenti che fa appello alle istituzioni locali affinché supportino le attività di esercizi commerciali che altrimenti rischiano la chiusura di servizio. Il caro energia con l'aumento vertiginoso di gas e corrente elettrica sta mettendo a dura prova i cittadini, imprese ed esercizi commerciali. Sono previsti aumenti fino al 140%. A lanciare l'allarme è confesercenti. Secondo le stime dell'associazione elaborata su dati innova Unione Camere e Agenzia delle Entrate a causa dei rincari potrebbero fallire 90.000 attività. Se nel 2020 e 2021 un bar spendeva di media 6.700 euro per le bollette di luce e gas nei prossimi 12 mesi ipotizzando che gli aumenti attuali restino costanti lo stesso bar spenderà 14.740 euro un aumento del 120% e un'incidenza sui ricavi aziendali che passa dal 4,9% al 10,7% Allo stesso modo un albergo medio vedrà lievitare la spesa per la bolletta energetica da 45.000 euro a 108.000 euro più 140% con un'incidenza di oltre 25 punti percentuali sui ricavi un esercizio di vicinato da 1.900 euro a 3.420 euro più 80% un ristorante da 13.500 euro a 29.700 euro vale a dire più 120% I rincari avranno un effetto negativo anche sui consumi degli italiani sempre secondo Confesercenti caro bollette inflazione porteranno le famiglie a ridistribuire il budget a discapito del settore dell'abbigliamento e calzature comunicazione ricreazione spettacoli e natura benessere della persona e salute qui parliamo di una situazione sicuramente non voglio dire drammatica ma quasi anche perché abbiamo visto che c'è stato un aumento dell'energia quasi del 140% di aumento in alcune aziende altre un po' di meno però è un aumento inaccettabile il mio grido d'allarme è proprio questo di dare diciamo di chiedere alle istituzioni di dare una mano alle aziende che stanno vivendo veramente un momento critico abbiamo bisogno che si prendano le loro responsabilità e anche spieghino la motivazione perché ci sono stati di aumenti così cari abbiamo pagina dodicesima edizione di note su ali di farfalla sabato 10 settembre al parco fluviale di teramo serata musicale in ricordo di federica e serena le giovani studentesse teramane morte per il crollo della loro casa il 6 aprile del 2009 all'aquila l'ospite d'onore sarà nada insieme ad altri artisti locali l'evento è stato organizzato dall'associazione che porta il nome delle due amiche scomparse vediamo federica e serena erano due splendide ventenni studentesse di medicina e volontaria in associazioni benefiche sono morte tragicamente la notte del 6 aprile 2009 all'aquila in seguito a quella terribile scossa di terremoto il loro ricordo sembra non essersi affievolito sia nei loro comuni di origine Montorio e Basciano sia nell'intera provincia teramana grazie anche ai loro compagni di scuola che hanno fondato un'associazione che porta proprio il nome di federica e serena il gruppo organizza ormai da 12 anni una notte musicale dedicata alle due ragazze la prossima si terrà al parco fluviale di teramo sabato 10 settembre e la star sarà nada accompagnata dal doppiatore Fabio Celenza ed artisti locali come le attrici Elisa Deusanio e Margherita Di Marco il fumettista Carmine Di Giandomenico e il cantautore Francesco Sbraccia sarà uno spettacolo molto bello ricco di emozioni e anche di risate insomma guardando anche la scaletta degli artisti e sarà una serata ricca una serata come ogni anno come ogni edizione che ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo di Federica Moscardelli e Serena Scipione Erano tue amiche? Sì erano nostre compagni di classe diciamo l'idea è nata principalmente da compagni di classe e da un gruppo di amici prima che compagni di classe proprio con questo scopo e ogni anno devolviamo in beneficenza parte ricavata dell'evento per progetti diversi per portare avanti il messaggio di Federica e Serena che comunque dedicavano la loro vita al volontariato Il tuo personale ricordo di Federica e Serena? Due persone tenaci e diciamo dedite molto all'attenzione verso gli altri La notte per Federica e Serena chiude il cartellone musicale estivo dell'amministrazione comunale al titolo Teramo Natura Indomita che ha proposto in questi ultimi tre mesi più di 50 eventi musicali Quinta edizione del concorso di eleganza Città di Chieti che si terrà dopo domani sabato 3 settembre alla Villa Comunale la manifestazione organizzata da All Motors Club Abruzzo e patrocinata dal comune sarà riservata alle auto cosiddette Young Timer quelle costruite a partire dagli anni 80 fino ai primi anni 2000 Servizio bellissimo bellissimo ritorno a Chieti quello del quinto concorso di eleganza di auto d'epoca con l'All Motors Club d'Abruzzo che ha rinnovato anche i vertici alla presidenza c'è nuovamente un tiatino di esperienza e siamo davvero molto felici che si possa tenere queste due giorni nella nostra città coinvolgendo tanti appassionati di auto storiche ci sarà una grande partecipazione e Chieti sarà nuovamente protagonista delle auto d'epoca in questo caso delle auto Young Timer anni 80 anni 90 la manifestazione si svolgerà sabato mattina a Chieti dalle 10 in poi ci saranno 45 vetture degli anni 80 90 e primissimi anni 2000 dalle più piccole di quel periodo quindi dalla Y10 Turbo 1 Turbo Renault 5 GT Turbo fino ad arrivare alle supercar quindi Ferrari testa rossa Ferrari F40 Lamborghini Diablo eccetera le vetture saranno giudicate da 6 giudici molto importanti il presidente di giuria il professor Paolo Tuminelli che arriva direttamente da Monaco è già stato presidente di concorsi di eleganza come quello di Villa d'Este poi ci sarà Marcello Mereo che è il dettile più famoso che abbiamo nel nostro paese il dettile personale di La Poelcani di Garage Italia poi abbiamo il Pietro Camardella che è il designer della Pininfarina che ha disegnato la Ferrari F40 il restyling della testa rossa della 456 e di tante altre poi abbiamo il teatino Domenico Formichetti blogger del campo della moda famoso ormai nella moda milanese teatino doc che ho visto crescere appassionato di auto verrà tra i 6 giudici ci sarà l'inviato di ruote classiche che patrocinia questa iniziativa che Nanni Cifarelli già detto stampa dell'Asi e poi verrà appositamente dalla Sicilia il vice presidente dell'Asi che sarà tra i giudici le manifestazioni si svolgeranno all'interno della villa comunale per sfilare appena i giudici daranno il verdetto lungo Corso Marruccino nella serata intorno alle 19 quella dei riders è una tematica di grande rilevanza mediatica per questo la IFA la scuola di cinema di Pescara ha dedicato a loro un cortometraggio che avrà la sua anteprima mondiale il 17 settembre al festival di Gaeta il servizio un normale pacco consegnato da un rider si trasforma nella prima prova di un caso di omicidio i protagonisti racconteranno a distanza di un anno gli eventi di quella notte attraverso le testimonianze di tre differenti punti di vista ripercorrendo le vicende legate al ritrovamento di un pacco con la pandemia si è focalizzata l'attenzione su diverse tematiche importanti che spesso e volentieri sono state messe da parte e non approfondite a dovere tra queste c'è sicuramente quella dei rider ovvero come i fattorini in questione avessero delle condizioni lavorative talmente precarie da essere in alcuni casi addirittura inesistenti invece parlare di un pacco consegnato da un rider e quindi affrontare la tematica dei riders ma all'interno di una cornice di genere quella di un thriller quindi è proprio questo che parla la storia un thriller dove di sfondo ci sono i riders che ha consegnato un pacco così partiranno le indagini per scoprire cosa c'è dentro questo pacco che si parlerà di un omicidio tutto questo raccontato attraverso un mockumentary con uno spondo di fiction Raider è anche il titolo del nuovo cortometraggio prodotto dall'IFA Scuola Cinema di Pescara che da diversi anni rappresenta sul territorio abruzzese il porto sicuro per le produzioni cinematografiche che decidono di scegliere questi luoghi per istituire i propri set ma soprattutto il punto di riferimento per le ragazze e ragazzi che decidono di intraprendere un percorso di studi cinematografico il cortometraggio che presentiamo oggi è il risultato del fine biegno o triennio degli studi sia dei mestieri dietro la macchina da presa regia sceneggiatura montaggio direzione alla fotografia tutto ciò che possiamo immaginare che si muove dietro le quinte e anche il connubio con il corso di recitazione dove infatti in questo cortometraggio l'attore protagonista è Marco Cassini un nostro attore abruzzese anche ex docente della scuola e soprattutto abbiamo fatto esordire anche dei giovani attori allora il discorso di film commission ne affrontiamo diversi abbiamo fatto diversi tavoli in questi ultimi anni e credo che bisogna lavorare ancora serratamente e soprattutto avere la coscienza che siamo neanche 20 anni indietro proprio non ci siamo e quindi avere l'umiltà di farsi aiutare e di scopiazzare di copiare le altre film commission che sono più avanti a noi ora lo sport alle 20 chiuderà la sessione estiva di calciomercato il Pescara ha ufficializzato l'innesto di Edoardo Vergani che arriva a titolo definitivo dalla Salernitana anche se ieri i dirigenti biancazzori hanno messo a segno il gran colpo di queste ultime ore con il ritorno del centrocampista Luca Palmiero vediamo il servizio pochi minuti alla fine di una sessione estiva di calciomercato che ha visto il Pescara proprio nelle ultime battute imprimere una significativa e necessaria accelerata puntellato l'attacco con l'innesto a titolo definitivo dalla Salernitana di Edoardo Vergani l'attaccante classe 2001 cresciuto nelle giovanili dell'Inter era stato già accostato al Pescara un paio di settimane fa l'assenza di offerte concrete dalla B lo ha convinto a sposare il progetto tecnico biancazzurro ma il colpo più importante di questo ultimo scorcio di mercato è Luca Palmiero l'uomo d'ordine che mancava che il tecnico Alberto Colombo aspettava e che arriva dal Napoli al fotofinish un ritorno a quello del play napoletano già a Pescara nella stagione 19-20 quella contraddistinta da pandemia e salvezza di Ferragosto a Perugia stavolta però Palmiero non arriverà in prestito in rival adriatico ma diventa un giocatore di proprietà del Pescara dopo aver risolto il contratto col Napoli e aver firmato con i biancazzurri un contratto biennale con opzione per il terzo anno Palmiero torna in C dopo aver vinto i playoff con il Cosenza nel 2018 in B sempre in prestito ha giocato con Cosenza Pescara 24 partite e un gol Chievo e ancora Cosenza 30 presenze lo scorso anno nelle gerarchie Colombo ora ha Palmiero in regia e Craia come cambio Mezziali Mora Aloy Jabua Germinario il rientrante Crecco e Meic laddove in caso di necessità Aloy e Jabua possono adattarsi come play l'arrivo di Lyubomir Tupta dal Verona oltre a quello di Vergani va a estendere la potenziale rotazione degli attaccanti poiché entrambi possono alternarsi a Cuppone e Lescanu potrebbe non essere tutto perché il presidente Sebastiani e il DS Delicarri hanno puntato il 25 attaccante Simone Edra del Torino con Tatti in corso per cercare di chiudere prima del gong sul fronte delle uscite è fatta per la cessione di Davide Veroli al Cagliari trasferimento a titolo definitivo il terzo prospetto che saluta Pescara dopo le cessioni di Sorrentino e delle Monache anche se quest'ultimo resta in prestito in rival adriatico fino a fine stagione alla cessione di Veroli aveva fatto da preludio l'innesto due giorni fa di Riccardo Brosco che andrà a comporre la batteria di centrali con Boben Ingrosso e Pellacani ora gli ultimi concidati istanti di calciomercato si cercano soluzioni per gli esuberi il terzino Alessio Rasi e il mediano Marco D'Aloia così come si cercano squadre dove mandare a giocare i baby Marco Chiarella su cui c'è il Mantua e Vladislav Blanuta domenica scorsa una settimana dall'inizio del campionato il presidente dell'Avezzano Gianni Paris ha optato per l'esonero dell'allenatore Tonino Torti artefice della recente promozione in D al suo posto ha chiamato il laziale Marco Scorsini ex allenatore di Monterosi e Ladispoli ascoltiamolo il mio credo è semplice nel calcio non si inventa niente io non prometto nulla ma prometto tanto lavoro tanto sudore la mia squadra deve uscire dal campo sempre con la maglia sudata quello è il mio obiettivo è chiaro che sono un allenatore a cui non piace prendere gol non so se è un pregio o è un difetto potrebbe essere un pregio perché nei tanti anni che ho allenato tra la Dispoli tra la Civita Vecchia tra la Cori Sportiva Cimini tra il Monterosi tante società nel Lazio molte società hanno costruito sul sottoscritto un progetto quindi mi hanno dato tanti giovani ho sempre fatto bellissime cose è chiaro che per me adesso è un bel banco di prova e ringrazio il presidente Lavezzano Calcio che ha scelto Marco Scorsini in pochi giorni non ho la bacchetta magica e chiaramente apporterò alcune modifiche che ho nella mia testa perché ho avuto modo di vedere già la squadra in coppa proprio contro il Porto d'Ascoli è chiaro che affrontiamo una delle squadre per sottolineare il processo più in forma di questo momento perché il Porto d'Ascoli dove eliminare Lavezzano è andato a vincere anche a Chiedi è una squadra in importanza una squadra di giocatori forti lo scorso anno hanno fatto un ottimo campionato però noi siamo Lavezzano umiltà determinazione e voglia ci andiamo a giocare la partita tireremo fuori tutto quello che avremo dentro e poi farò un primo punto con lei della situazione perché come ci siamo ben detti io ho grande estima di tutti questi calciatori voglio valutare bene la Rosa Marco Scorsini è venuto qua per dare qualcosa a questo Lavezzano e al gruppo non per fare certo cambiamento tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma youtube oppure sul sito www.tv6.it grazie per l'attenzione l'appuntamento è con le prossime edizioni del TG6 l'appuntamento 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 l'appuntamento